Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, torniamo a parlare della guardia giurata, il vigilantes che, lo ricorderete, aveva sparato al cognato con la sua pistola di ordinanza. Adesso lui da quel giorno si trova in carcere, ma il cognato, che era stato ricoverato subito all'ospedale San Donato di Arezzo, è sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Adesso sta meglio. Sta meglio. Dopo un delicatissimo intervento e giorni trascorsi in terapia intensiva, il 45enne è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso dal cognato all'interno di un appartamento di via Benvenuti, a pochi passi dal centro storico Aretino. La guardia giurata, di 41 anni, resta invece nel carcere di San Benedetto. I suoi legali, Pietro Melani Graverini e Gianluca Felciai, stanno valutando se avanzare una nuova istanza per i domiciliari. La prima era stata infatti rigettata dal GIP Giulia Soldini nell'udienza di convalida dell'arresto. I difensori adesso potrebbero indicare un luogo diverso dall'appartamento di via Benvenuti, dove abita l'uomo, che potrebbe essere così più idoneo e potrebbe permettere l'applicazione di una misura meno afflettiva. L'episodio risale allo scorso 25 gennaio, quando all'interno dell'abitazione una lite per motivi familiari si era conclusa nel sangue. All'origine del diverbio tra il 41enne e la sorella pare la gestione dell'anziana madre, una discussione che si sarebbe fatta sempre più tesa al punto che la donna aveva chiamato il marito. Da qui la situazione però sarebbe degenerata. La guardia giurata avrebbe esploso un colpo di pistola contro il cognato, colpendola all'addome. Le condizioni del 45enne adesso sono finalmente migliorate. Nelle prossime settimane potrebbe essere proprio lui a raccontare agli inquirenti cosa è accaduto quella drammatica sera. Tre giovani della Valtiberina sono finiti nei guai per un giro di droga che avevano messo in piedi e che è stato stroncato dai carabinieri grazie anche all'ausilio dei cani antidroga. Tre giovani della Valtiberina incastrati dai cani antidroga e fermati dai carabinieri avevano messo in piedi un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione che ha coinvolto i carabinieri di Sansepolcro insieme ai colleghi della stazione di Pieve Santo Stefano al nucleo Cinofili di Firenze è partita da un semplice controllo su strada durante il quale un 19enne era stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish. I carabinieri hanno seguito il ragazzo, hanno ricostruito le sue frequentazioni e raccolto una serie di indizi che li hanno portati a sospettare che dietro a quel ritrovamento ci fosse altro. L'indagine si è così avvalsa anche dei cani antidroga e gli investigatori hanno perquisito all'alba l'abitazione del ragazzo. Sono stati così ritrovati e sequestrati un bilancino di precisione, 6 grammi di hashish e 6 di chetamina granulare e materiale per il confezionamento della droga. Subito dopo i militari hanno fatto irruzione in una seconda abitazione, residenza di una coppia di giovani del posto poco più che ventenni. Anche qui sono stati trovati 22 grammi di chetamina, 13 di marijuana e 600 di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e 2.000 euro in contanti. Per i due è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione e fini di spaccio di stupefacenti, mentre il 19enne è stato denunciato. Riunione questo pomeriggio in prefettura, convocata proprio dal prefetto Maddalena De Luca in seguito alle innumerevoli segnalazioni, alcune finite anche proprio sul suo tavolo, riguardo la presenza di lupi, soprattutto a ridosso dei centri abitati. Sentiamo allora come è andata. Nella riunione di oggi del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Maddalena De Luca, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'Ordine del Comune di Arezzo e della provincia, è stato esaminato anche il problema della presenza dei lupi nelle prossimità dei centri abitati, come segnalato dai cittadini. Importante rispetto alla problematica, conoscere esattamente in termini numerici la portata del fenomeno, in modo da poter affrontare la delicata questione in uno specifico tavolo che convocherà la prefettura alla presenza di tutti gli esperti del settore. Il prefetto, nel ricordare che il lupo è una specie protetta e che il tema richiede di essere esaminato in tutta la sua complessità, ha sottolineato l'assoluta necessità di evitare iniziative personali o private da parte della popolazione o di gruppi di cittadini. Qualsiasi iniziativa, ha detto il prefetto, che potrà essere assunta per affrontare la questione, dovrà tenere in considerazione sia le esigenze di sicurezza dei cittadini che il rispetto di una specie animale protetta e tutelata. Da oggi la senologia del San Donato di Arezzo può contare su un nuovo mammografo. La nuova macchina acquistata con i fondi del PNRR andrà a sostituire una delle strumentazioni diagnostiche che erano in uso nel reparto. La nuova strumentazione, grazie alle sue caratteristiche, consente di effettuare esami in alta definizione e dunque di individuare tumori al seno anche di piccole dimensioni. Rimaniamo in tema sanitario perché c'è sempre più difficoltà sul fronte del reperimento dei farmaci e allora si ricorre ai preparati galenici. La farmacia oggi come sfera di attività rispetto a qualche anno fa è molto cambiata. Riscoprire la galenica, riscoprire questo tipo di attività, mantenerla è anche un modo per mantenere la propria identità professionale. Se il farmaco non c'è, il farmacista torna in laboratorio nelle farmacie galeniche infatti si ricomincia a produrre i medicinali che l'industria non riesce a fornire. Continua a scarseggiare la disponibilità di farmaci stagionali ma anche quelli per le cronicità. Le farmacie della Toscana si sono così mobilitate mettendo a pieno regime i lavoratori galenici. È appunto un ambiente dove vengono preparati i prodotti galenici, i prodotti officinali, i prodotti magistrali e è diciamo una piccola fabbrica della farmacia. La mancanza di medicinali interessa sia antifiammatori, antipiretici ed antibiotici ma anche farmaci per la gestione di malattie croniche, patologie oncologiche. La difficoltà di reperire medicinali è dovuta alla carenza dei principi attivi più richiesti ma anche alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime necessarie al confezionamento. Fondamentali diventano così i preparati galenici. Si parte dal principio attivo. Sì, il principio attivo che deve essere diciamo così circondato tra virgolette da sostanze accessorie che sono chiamate gli eccipienti. Gli eccipienti sono tutte quelle sostanze che sono all'interno del farmaco, della preparazione che non sono il principio attivo, che è il vero farmaco che però concorre alla formazione della forma farmaceutica. Al San Donato di Arezzo una giornata per fare il punto sul tumore al colon retto è quella che si terrà nell'auditorium dell'ospedale Aretino il prossimo 4 febbraio proprio in occasione della giornata mondiale contro il cancro dalle 9 alle 12.30 per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore appunto al colon retto. Sono determinanti, spiega il dottor Carlo Milandri, un corretto stile di vita e l'adesione allo screening programma nei cui confronti nella nostra area c'è la necessità di una maggiore sensibilizzazione. Parliamo del DDL Autonomie. Oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, come sappiamo, voluto dal Ministro Calderoli, alla base c'è l'idea che le regioni a statuto ordinario possano chiedere di avere competenze esclusive su alcune materie. Un iter che immaginiamo sarà piuttosto lungo e complicato ma intanto sentiamo qual è proprio in merito appunto a questo DDL in discussione la posizione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Ma io ritengo che l'articolo 116, terzo coma della Costituzione è scritto in buona parte secondo l'ispirazione di un grande toscano, Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, da cui poi anche nei trattati di diritto costituzionale si parla per l'Italia di una democrazia regionale quindi non uno Stato assoluto, non uno Stato federale ma un ordinamento regionalista. Ecco, ci debba portare oggi a un nuovo regionalismo. L'abbiamo visto con la pandemia, se le regioni sono responsabilizzate in piena armonia con lo Stato, in quel caso il generale Figliolo da un punto di vista esecutivo i 9 milioni di vaccini inoculati in Toscana è stata tutta la struttura regionale che con grande efficienza è riuscita a farlo. Ma in generale in Italia questo è avvenuto, in generale in Italia noi abbiamo potuto riscuotere i complimenti del Ministro degli Esteri tedesco che vi ricordate individuava l'Italia come esempio. Ecco, in tante materie tutto questo è possibile ma ci sono materie in cui è possibile per le caratteristiche di una regione e quindi io più che chiedere 23 in materia di autonomia differenziata penso a 4-5 materie nelle quali so che la gestione regionale è migliore di quella statale ma per un fatto oggettivo perché da Roma venono non bene come noi possiamo il nostro territorio per caratteristiche del nostro territorio. Siamo sicuri che i 35 milioni degli uffizi o altrettanto della Galleria dell'Accademia sono i due musei più frequentati in Italia vanno per potenziare il sistema museale dell'Isola d'Elba dove vi è la casa di Napoleone due anni fa era l'anniversario di Napoleone e a me mi arrivavano le email in un ufficio in cui la gente protestava perché la residenza di Napoleone all'Isola d'Elba era aperta una o due giorni la settimana. Ecco questo significa che quella capacità di redistribuzione sul territorio che lo Stato dovrebbe fare quando lo Stato è lontano non riesce e allora ecco che è giusto che alcune competenze possano essere attribuite alle regioni e sulla base di intese è quello che è scritto nell'articolo 116 terzo com il 34% del consumo di energia elettrica in Toscana è data dalla geotermia perché il contratto con Enel Green Power lo deve fare lo Stato e quantomeno non veda con partecipe la regione toscana che magari quando si fa vedere le contropartite queste regioni che questi comuni devono avere vigila sul fatto che siano contropartite giuste ecco che ci sono materie e c'è apposta un articolo della Costituzione in cui il fatto che si presentino in una specificità in quella regione comporta un'intesa fra Stato e Regione questo è il nuovo regionalismo su cui io sono convinto che se un cittadino ci riflette, se un parlamentare ci riflette è giusto portare avanti è arrivato lunedì scorso in Ucraina a Sambir il generatore donato dal comune di Arezzo e che è stato destinato all'ospedale appunto della città ucraina per fornire energia alla caldaia del reparto Maternità scalderà dunque i più piccoli a darne notizia con un post sulla propria pagina social è proprio il sindaco appunto della città ucraina che ringrazia il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per questa donazione avevamo avuto notizia dell'arrivo del generatore dice Ghinelli adesso sappiamo anche quale sarà il suo impiego è un dovere fare quello che è appunto delle nostre possibilità per cercare di alleviare le sofferenze inflitte a questa popolazione parliamo adesso invece di economia in questo caso declinata al femminile perché alla borsa merci di Arezzo oggi c'è stata la sessione conclusiva del progetto europeo femmina è nato per favorire il superamento proprio del divario di genere esistente nelle piccole e medie imprese europee ad alta tecnologia le delegazioni sono arrivate da sette paesi europei Norvegia, Spagna, Grecia, Romania, Svezia, Paesi Bassi ed ovviamente Italia per partecipare all'evento conclusivo di femmina alla borsa merci di Arezzo è al centro il tema dell'imprenditura femminile nel settore dell'alta tecnologia quindi di quelle che sono le start up ma anche le imprese che già operano in questo importante settore che ha avuto un impulso molto forte negli ultimi due anni particolarmente quelli della pandemia che hanno visto approcciare anche con metodologie nuove ovviamente ai mercati e alla organizzazione e alla strutturazione delle imprese questo ovviamente è stato particolarmente rilevante nel mondo dell'impresa e dell'imprenditoria femminile che ovviamente ha saputo rispondere in modo forse non totalmente soddisfacente perché i numeri ancora purtroppo per quanto riguarda l'impresa femminile non sono quelli che ovviamente tutti ci ospicheremmo ancora dobbiamo fare molto ma comunque hanno dato un segnale importante c'è stato addirittura un aumento negli ultimi due anni di quelle che sono le start up innovative e quindi un segnale davvero di crescita rilevante tutto questo deve essere coltivato ancora di più si tratta di un intervento volta ad individuare gli strumenti politici e normativi in grado di superare il divario di genere esistente nelle piccole e medie imprese europee ad alta tecnologia è un'impresa su quattro e donna ad Arezzo ma ancora c'è una disparità di genere legato ovviamente alle difficoltà nella produttività nella competitività soprattutto dal lato della formazione solo una donna su cinque si iscrive a corsi di formazione i cosiddetti STEM nel campo delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e anche della matematica e questo è un gap di produttività, di competitività che va a penalizzare questo tipo di occupazione per quanto riguarda il futuro noi abbiamo progetti importanti pensate che abbiamo presentato cinque progetti per un valore complessivo di circa 8, di oltre 8 milioni di euro e sono anche quelli per l'imprenditoria femminile per il raggiungimento di scopi di parità di genere e di formazione nel mondo particolarmente nel mondo femminile e nei loro ruoli pubbliche, nelle piccole e medie imprese e adesso una pagina dedicata al carnevale perché si avvicina il primo fine settimana in cui appunto inizieranno i corsi mascherati un po' in tutte le zone della nostra provincia a cominciare dal comune capoluogo con il carnevale arettino dell'Orciolaia le date sono appunto il 5, il 12 e il 19 di febbraio in una location piuttosto insolita il parco Aldo Ducci di via Montefalco ad Arezzo tanti personaggi che accompagneranno grandi e piccoli a cominciare dalla famiglia Madrigal Mirabelle per poi finire nel paese delle meraviglie con Alice, il cappellaio matto il bianconiglio e la regina di cuori l'immancabile Super Mario e le principesse Disney i corsi mascherati inizieranno ogni domenica appunto 5, 12 e 19 febbraio a cominciare dalle 15 e poi ci sono i due grandi carnevali del nostro territorio nel senso ovviamente nulla togliere alle altre località quindi Foiano della Chiana il più grande e antico carnevale d'Italia al quale sicuramente dedicheremo un servizio nei nostri prossimi telegiornali e quello dei figli di Bocco a Castiglionfibocchi 200 maschere barocchie nel borgo medievale aretino di Castiglionfibocchi torna così il carnevale dei figli di Bocco che nel 2023 festeggia la sua 26esima edizione si parte sabato 4 febbraio con Aspettando i figli di Bocco si prosegue poi domenica 5 e sabato 11 con la chiusura prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo che percorrerà le vie del centro storico quattro giornate di sfilate e divertimento per una festa dal sapore veneziano assolutamente sì i castiglionesi sono pronti gli ultimi ritocchi per dare inizio al gran carnevale dei figli di Bocco domenica 5 e domenica 12 aspettiamo tutti i visitatori il carnevale dei figli di Bocco è dedicato quest'anno a Pietro Vannucci detto il perugino a 500 anni dalla sua scomparsa ma non solo carnevale tanti gli eventi in calendario per queste quattro giornate di magia senza tempo per le strade di Castiglionfibocchi torna anche il concorso fotografico invito tutti gli appassionati di fotografia di venire al carnevale dei figli di Bocco di partecipare al concorso fotografico verrà svelato l'argomento e quindi di quest'anno e tutti possono veramente partecipare e tentare di vincere uno dei primi tre premi una new entry nella programmazione di Arezzo TV proprio domani sera alle 21 subito dopo il nostro telegiornale appunto sbarcherà nella nostra programmazione una nuova trasmissione si canta, si balla, si ride è davvero un momento insomma un po' di leggerezza perché evidentemente ce n'è davvero bisogno e quindi vi faremo compagnia con questa nuova trasmissione domani venerdì 3 febbraio alle 21 vediamo una piccola anticipazione con questa intervista Un nuovo format nella programmazione di Arezzo TV si canta, si balla, si ride che si fa? Si gioca Ah ok No, no, è stato veramente penso una bella cosa ideata qui con Mileno No, quello c'è anche il prete quella messa in onda Sì, è vero, è vero è vero e ci ha dato anche la benedizione all'inizio perché che la... E in fondo in fondo hai ragione Sì, che venisse bene la trasmissione ci ha dato la benedizione Ma te canti? Ogni tanto sì, eh facciamo delle belle cose Ma perché sei un uomo felice, bello sei proprio un uomo da baciare tutto da diventare quasi gay Ah, anche quello dammi ora Ah, a una certa età bisogna provarle tutte Ah, questo Aspettiamo, dai ancora Aspettiamo Senti, ma si... Generi a parte di che si parla in questa trasmissione? Ma la mia parte sicuramente quella musicale sentirete delle canzoni belle belle, attuali da jukebox Poi fa anche cabaret lui fa anche cabaret fa proprio si veste da... fa cabaret fa il comico è bravissimo come comico cioè se lo sapeva prima mi ha detto avrebbe fatto una cosa da giovane ora l'ha scoperto tardi però siamo a carnevale siamo a carnevale ogni scherzo vale ma te mi hanno detto sei bravissimo l'ho visto anch'io poi ti guardo in televisione mi calma sì, sì ma te che hai fatto? che ho fatto? se guardi Arezzo TV lo scopri di più ma qualcosina fa c'anticipazione e ce la dai no, c'era ogni tanto però poi dopo un po' sono ritornato poi vè ma io guardavo e lo facevi te ma c'è anche la valletta le donne pieno di donne pieno di donne proprio donne ma buone cioè di carattere buone di carattere buone c'è con caratterino che è una cosa amicidiale no le donne è tutta a noi niente avete visto un furgoncino anni 60? è bellino veramente bellino dai e quello è il nostro mezzo di trasferimento che abbiamo così almeno non ci nota nessuno è bellino giusto? ma io avevo preso l'ape sono rimasto a piedi era l'ultimo modello è tre ruote e uno sportello ma sono rimasto a piedi lo dico quella e allora te sei più fortunato di me lo sapete sul camioncino va beh insomma qualcosa ci avete detto e poi insomma l'invito è a seguire la programmazione sicuramente sì se no era brutto svelare subito fin dall'inizio tutto la gente ci deve guardare penso che mezz'oretta si diverterà con noi come dice Beppe se guarderai su di più ne sai di più è vero sicuramente sì dai in questi momenti che sono tristi con problemi costi benzina cavoli vari una mezz'oretta ancora sì è solo l'ape l'ultimo modello così almeno mezz'ora spensierata sicuramente la volevamo regalare un po' tutto il pubblico mi dice che lo andava al bagno sì una mezz'oretta va bene ma il titolo ce lo dite lo sa lui canzoni e cabaret era questo o me l'ha cambiato no perché non si chiamina mai no magari perché lui scherza carnevale poi c'è le suore poi c'è i preti non lo so che ha combinato canzoni e cabaret a giudicare c'è anche un personaggio che hai pensato a te ho visto adesso sempre nelle reti nazionali è sempre nelle reti nazionali sì qualche ospite ce l'abbiamo ma lui sicuramente ha visto che sta facendo un bel successo questo ci fa più punto e più punto ma lei non l'ha vista lei chi? quella l'ho vista? insomma lui lei e l'altro comunque sia seguita Rezzo TV siamo rimasti e lui in fondo siamo tanti ma siamo rimasti qualche risata ce la faremo sicuramente sì ecco un po' di bella musica ha detto bene Beppe è meglio sta bene che sta male quindi se uno guarda una cosa che insomma passa un po' di tempo bene è meglio che guarda una cosa che sta male poi io l'ho scoperto è meglio sta bene che sta male dopo il telegiornale dopo le brutte notizie che di solito noi diamo al telegiornale un momento di allegria e di bella musica ok? parliamo ancora di produzione televisiva ma questa volta che riguardano Rai 1 e Cortona perché grazie alla trasmissione Generazione Tsunami appunto la troupe del programma televisivo della Rai è tornato a Cortona e ha realizzato un servizio con i protagonisti con i protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Montecchio e Mercatale la puntata andrà in onda sabato 25 febbraio alle 10 su Rai 1 sentiamo Cortona perché è il centro un po' del mondo per me a parte la bellezza naturalistica ma è ricca di cultura è ricca di espressioni poetiche considerando che oggi parliamo di poesia e quale posto migliore scegliere questa cortona meravigliosa significa parlare di poesia in ogni angolo di ogni strada del vostro del vostro paese di questa realtà poi si è un paese ma sembra appunto il centro del mondo sembra un po' un raggruppare quella che è la cultura dell'universo ma è stata una fantastica opportunità appena mi hanno contattato per questa iniziativa sono stato entusiasta tra l'altro è stato modo anche per coinvolgere scuole magari che sono localizzate in una posizione più periferica che molto spesso magari non vengono valorizzate i ragazzi li vedo molto come si dice coinvolti e con la loro spontaneità riescono a sorprenderci grazie all'amministrazione che ci ha dato questa opportunità e siamo alla pagina sportiva iniziamo con le buone notizie che riguardano in questo caso il mondo del taekwondo tre medaglie per l'atleta Cristian Boncompagni originale di Civitella in Valdichiana giovane promessa appunto di questo sport ha conquistato ben tre medaglie nel mese di gennaio 2023 a soli 11 anni in particolar modo ha vinto l'oro al Tuscani Open disputatosi ad Arezzo presso il Palasport Estra e ha vinto l'argento a Chieti gareggiando nel campionato interregionale d'Abruzzo l'ultima vittoria forse la più importante la scorsa settimana all'Insubria Cup 2023 di Milano dove il giovane ha rappresentato Arezzo ai campionati nazionali aggiudicandosi un altro argento ed è arrivato invece un altro oro per Beatrice Coradeschi un'impresa davvero forse più unica che rara per la giovane promessa del Taekwondo classe 2007 anche lei originaria di Civitella in Valdichiana altre tre medaglie per Beatrice Coradeschi la giovane promessa del Taekwondo classe 2007 originaria di Civitella in Valdichiana che ha realizzato un'impresa più unica che rara in Turchia per il ranking mondiale ma non solo la giovane atleta ormai da anni tra le fila della selezione azzurra lo scorso novembre aveva preso parte ai campionati italiani ottenendo un oro nel freestyle seguito dal doppio oro forme freestyle nel campionato interregionale che si è svolto in Puglia lo scorso gennaio il direttore tecnico della nazionale ha così chiamato Beatrice come biasimarlo anche per la spedizione italiana in Turchia in occasione delle gare valide per il ranking mondiale una prova generale in vista dei prossimi campionati europei ieri prima giornata di gare la prima medaglia di bronzo che di fatto ha permesso all'Italia di chiudere con 12 medaglie oggi con due ori al mattino con il trio e nel pomeriggio un oro individuale con il freestyle la giornata si chiude in bellezza domani alle 11 ora italiana un'altra gara ma il 2023 per Beatrice sembra essere iniziato nel migliore dei modi ed infine parliamo di calcio una sorpresa sul fronte del mercato per gli Amaranto arriva un 2004 ma non è un terzino si tratta di un attaccante Cantisani sentiamo innanzitutto per una crescita personale poi per la piazza è una piazza importante questa è una delle migliori di questa categoria e mi può spingere solo a fare bene mi piace giocare molto sull'esterno ho grande gamba e preferisco a sinistra per rientrare e magari mettere qualche palla velenosa in mezzo oppure andare a calciare direttamente in porta ecco penso di trovarmi molto bene in questo modulo l'ho fatto spesso anche nelle giovanili del Crotone quindi non ho problemi a giocare in questo modulo la mia carriera inizia in un paesino nelle provinciali per poi andare nelle regionali di Potenza per poi Crotone e tutto il settore giovanile lì e diciamo Arezzo rappresenta come già ho detto una grande piazza dove posso solo che fare bene ecco e diciamo la vicinanza per giocare davanti cioè vicino a quei grandi giocatori può farti solo bene sia mentalmente che fisicamente cresci davvero davvero tanto fisicamente sto benissimo e spero di iniziare a giocare fin da subito è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci grazie a tutti Grazie.